www.feyyaz.tv che guarda tutti è un pittore che ha due cose in comune con Buñuel un lato brutale, molto barbaro, violento ma anche una spiccata sensibilità Goia è una fontana per tutti tutti possono trovarla per esserne spaventati, impauriti, consolati è sempre emozionante penetrare nell'intimità di un pittore le incisioni di Goia pongono una domanda a chi le osserva è questo che rende grandi gli artisti vedono in noi cose che noi non vediamo a chi le osserva